Prisco, prego onorevole. Sì, grazie Presidente. Io faccio prima una considerazione di metodo sul, si è richiamato da parte del relatore, la questione tempo per l'approvazione delle riforme costituzionali. Ricordo che questa proposta è incardinata da diverso tempo, forse qualche anno, in commissione di cui il collega è Presidente, quindi se rientrava tra le priorità da mettere in agenda non poteva certo essere esclusivamente a carico dell'opposizione che l'ha calendarizzata nel momento in cui gliene è stata concessa l'occasione. E credo che dopo l'elezione del Presidente Mattarella, la rielezione del Presidente Mattarella abbia rappresentato un punto di caduta massimo per la politica e per il Parlamento. Un siparietto, come dire, definire imbarazzante è poco ed ha visto veramente prevalere la miseria della necessità di garantire la stabilità con il Presidente Draghi a Palazzo Chigi e il Presidente Mattarella al Quirinale perché solo questo avrebbe determinato la certezza matematica che non sarebbe caduto il Governo e non vi sarebbero state elezioni anticipate. Si sono scambiati sette mesi di stipendio per sette anni di Quirinale. Questo è, e se ne sono accorti tutti, se ne sono accorti per primi gli italiani, e credo che basta guardare qualsiasi istituto di sondaggio, i giudizi espressi sulla politica in genere dopo quel momento, credo che rappresentino plasticamente il momento più basso della politica parlamentare di questo ultimo periodo. E non aggiungo altro, se non una considerazione, perché a prescindere ovviamente da questa legge che certamente è una proposta di parte ma che è stata aperta al contributo di tutti, di tanti, tant'è che sono stati proposti alcuni emendamenti che io, come allora relatore del provvedimento, ho anche accolto capendo lo spirito costruttivo di questa proposta. E per quanto riguarda la famigerato incontro, riunione allargata degli uffici di Presidenza, di Camera e Senato sulle riforme possibili, Fratelli d'Italia sul punto ha detto sì, noi abbiamo una proposta di parte ma siamo disponibili e ci siamo fatti anche presentatori con il Presidente Larussa in Senato, della proposta di istituzione di un'assemblea costituente da eleggere parallelamente al nuovo Parlamento. Una proposta che non viene certamente da Fratelli d'Italia ma che è stata avanzata al mondo della politica dalla Fondazione Enaudi. Il Presidente Larussa se ne è fatto carico e mi sembrava una buona via d'uscita per dare una risposta al Paese rispetto alla necessità di avere garanzie certe per le istituzioni, per la garanzia della sovranità nazionale, per la stabilità di governo e internazionale. Vedete colleghi, so benissimo che il presidenzialismo è una delle battaglie storiche della destra italiana ma che oggi è voluta dalla maggioranza degli italiani. E questo è un fatto sul quale il Parlamento non può non occuparsene. Fratelli d'Italia le ha riproposta ma non è la prima volta. Ne abbiamo viste di proposte simili sentite negli anni. Siamo contenti anche che altre forze politiche non provenienti dalla nostra stessa parte si siano avvicinate a queste posizioni così come lo hanno fatto esponenti di tutto rilievo del mondo accademico e del mondo politico, non per forza di destra e di centrodestra. Va bene che ci siano ovviamente differenze, è normale e per questo ci siamo presentati anche rispetto a questa proposta non chiusi al contributo di chi lo volesse portare perché riteniamo che sia necessario riscrivere la parte seconda della Costituzione aggiornandola ai tempi di oggi. E non ci siamo irresponsabilmente arroccati sulle nostre posizioni. Dicevo prima quanto è arrivato per esempio relativamente a molti emendamenti costruttivi di forze politiche tanto di centrodestra quanto di centrosinistra. Il nostro modello è un modello, e nella proposta l'ha ricordato il Presidente Brescia da relatore, un modello di semispresidenzialismo alla francese, cosiddetto alla francese. Riteniamo che sia quello migliore, ma riteniamo che comunque il fulcro necessario del cambiamento della seconda parte della Costituzione sia la capacità di ridare centralità all'unico detentore della sovranità popolare, cioè i cittadini, che con quel sistema riconquistano centralità e autorevolezza dopo che la politica ha utilizzato i voti degli italiani per fare l'opposto di quello che aveva promesso in campagna elettorale e per disattendere quelle che sono le indicazioni provenienti dal voto. Non è nuovo in Italia che chi perde le elezioni poi vada anche al governo del Paese, l'unico Paese occidentale in cui accade questa strana cosa. E la stabilità politica non è un valore che sta a cuore solamente a Fratelli d'Italia, o almeno non dovrebbe essere così. Non la stabilità dei posti dei parlamentari, la stabilità politica del Governo e della Nazione, soprattutto sotto il profilo del quadro internazionale. E questo da più parti si è dimostrato più volte che l'istabilità reca danni alle istituzioni, all'economia, alla credibilità, al prestigio internazionale della Nazione. Testimonianza ne sono gli infiniti appelli che vengono sempre rivolti alla politica, soprattutto quando cade un Governo, quando c'è una crisi di Governo, affinché si faccia tutto per evitarla, perché si metta al riparo il Paese dalla speculazione internazionale, la questione dei mercati, gli assalti finanziari, riecheggiano ancora quei momenti della caduta dell'ultimo Governo eletto dai cittadini, il Governo Berlusconi. E testimoniano certamente due cose non secondarie. La prima è che l'istabilità è vista ovunque come un male in primis dai cittadini che ripongono ormai purtroppo sempre meno per colpa della politica fiducia nella politica e nelle persone che scelgono di votare. Il dato dell'astenzionismo su questo la racconta largamente. La seconda è, come tutte queste parole, altro non facciano che testimoniare in maniera eloquente il triste primato di poteri esterni a quello politico della sovranità nazionale. Lo ha ricordato anche il Presidente Mattarella con schiettezza nel giuramento che lo ha visto rieletto al Quirinale. È triste per chi come noi crede nel primato della politica sull'economia, ma è triste per chi vorrebbe ovviamente dare più forza e più autorevolezza alle istituzioni. Ecco, dunque, quando parliamo di stabilità politica facciamo un piccolo confronto su quello che è successo e è successo negli Stati europei in questi ultimi anni. Quelli che magari come l'Italia fanno parte del G7. Prendiamo un arco temporale a caso. Dico gli ultimi venti anni, io mi sono appuntato il periodo della moneta unica più o meno. La Francia ha avuto quattro Presidenti della Repubblica. Tra l'altro, Chirac era Presidente anche da molto prima ovviamente di questi tre anni. Il Regno Unito ne ha avuti cinque. La Germania ne ha avuti due. Noi siamo invece in testa alla classifica una delle poche democrazie che ha avuto negli ultimi dieci anni ben dieci Presidenti del Consiglio 11 con Draghi oggi, che è quello attualmente in carica. Credo che non servano altre parole, non servano altri commenti, perché dalla poca stabilità politica discende anche uno scarso prestigio internazionale con le conseguenze che tutti noi conosciamo e che purtroppo vediamo. Ma non è questo il momento di fare questo genere di polemiche. E in una situazione di stabilità e confusione, di poca chiarezza, in un mondo complesso, sempre più complesso, di economia globalizzata, forse anche di economia di guerra, quando la politica è debole e l'economia e sono altri interessi che dettano le regole del gioco. E a questo punto noi non ci vogliamo rassegnare, ed è questo il senso di questa proposta anche portata all'attenzione del Parlamento oggi, a questo scenario di regressione. Noi vorremmo un Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo che unisca in sé anche la guida, il coordinamento, l'azione di governo e che dia appunto valore, come dicevo in premessa, all'articolo 1 della Costituzione, cioè la sovranità appartiene al popolo. E mi pare che in questi ultimi anni quello che è stata l'indicazione del voto popolare sia stato sempre puntualmente disattesa dai suoi rappresentanti. Noi invece abbiamo, credo, e questa proposta va, nel senso di avere un massimo rispetto degli italiani, delle loro scelte, della loro capacità di discernimento. E a chi evoca lo spettro dell'uomo forte al comando, si è sentito anche questo, dire nella Commissione referente o il rischio di concentrare troppi poteri nelle mani di una sola persona. Ricordo che stiamo proponendo un sistema simile a quello francese, non mi risulta che in Francia non vi sia una democrazia. E poi che a dirlo? E chi ha sostenuto il Presidente Conte come Presidente del Consiglio che governava esautorando il Parlamento con i DPCM e il Presidente Draghi, che è noto a tutte le forze parlamentari, essere abbastanza riluttante rispetto alla partecipazione alla vita democratica e parlamentare, beh, consentitemi almeno di farci una risata. Noi pensiamo, e il senso di questa proposta va nel senso di avere un Presidente votato dagli italiani, legittimato dagli italiani e che risponde del suo operato di fronte agli italiani. Semplice. Non serve molto altro da aggiungere. Poi si può discutere sugli elementi accessori, purché il principio rimanga tale e rimanga fermo. Perché l'Italia è una nazione che certamente ha bisogno di stabilità, ma ha bisogno anche di scelte chiare, di sapere un minuto dopo le elezioni chi ha vinto e governa il Paese e chi ha perso e sta all'opposizione. E per cinque anni quella è l'interfaccia della nazione in Europa e nel mondo. Pensate che autorevolezza e che cambio di rotta importante che potremmo dare al nostro Paese. Il presidenzialismo serve a passare da una democrazia in qualche modo interloquente a una democrazia decidente. Lo sanno bene i nostri imprenditori, lo ha ricordato il Presidente Brescia, che vivono, come tutte le famiglie italiane in questo momento, l'allarme di una crisi economica con delle scelte che arrivano timide, con compromessi a ribasso e che non rispondono alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane. Bene, con un Presidente eletto, con una democrazia decidente, queste scelte potrebbero essere prese con maggior decisione, con maggior vigore, con maggior concretezza, come serve nei momenti di difficoltà, velocità, coraggio e visione, che non possono essere raggiunte esclusivamente con delle deroghe alle regole, come è stato fatto con i diversi stati di emergenza che abbiamo avuto in questo nostro Paese e che ancora purtroppo abbiamo. Dicevo, il presidenzialismo consentirebbe di sapere chi ha vinto e chi governa e chi fa l'opposizione. E credo che anche l'articolazione dei poteri, si è discusso molto, dei centrati, le famose autonomie regionali, i trasferimenti di competenze e di risorse, si possano affrontare senza temere scelte centrifughe, perché avremmo un'unità nazionale rappresentata da un Presidente eletto dall'intera nazione in tutta la sua pienezza di rappresentanza. In altri termini, il presidenzialismo rappresenta anche una garanzia di indissolubilità dell'unità nazionale che consentirebbe, per l'appunto, anche di vedere con attenzione, di guardare con attenzione a esperimenti di maggior autonomia territoriale. Per cui Fratelli d'Italia ha rilanciato questa sfida, ha avuto in commissione l'esito che ha avuto, e non ci voglio tornare perché non compete al ruolo del relatore, seppur di minoranza, ma credo che si commenti da solo, e chi ha responsabilità in questo senso se le dovrà anche assumere di fronte agli italiani. Ritengo però che bisogna rimanere, come siamo rimasti, e rimaniamo aperti al confronto. Confido ancora che si possa provare tutti insieme a scegliere quella sfida dell'Assemblea Costituente per ridisegnare la seconda parte della Costituzione, di cui abbiamo parlato, ma poi quelle riunioni sono rimaste lettera morta. Era un interrogativo sul cosa facciamo per concludere la legislatura e per migliorare la Costituzione, che poi è rimasto così tante intenzioni, anche diversamente compilabili tra loro. Quindi noi pensiamo che questo sia il tempo delle decisioni, pensiamo che non sia ulteriormente rinviabile questo tipo di riforma, che non ci siano più scuse per poterla affrontare, e vorremmo che fosse messo da questo Parlamento un punto fermo anche per la prossima legislatura, perché riteniamo che l'Italia sia pronta a questa svolta. E questo deve essere la priorità di questo o del prossimo Parlamento, perché l'Italia ha bisogno di riguadagnare l'autorevolezza internazionale, la stabilità, la forza, il coraggio e la visione, che sono proprie della sua storia e che merita di avere anche nel suo futuro. Grazie.